Molti appassionati di tartufai in questo periodo si dedicano alla pesca, in particolar modo del black bass, un pesce molto sportivo che una volta allamato fa salti fuori dall'acqua. È un predatore che attacca tutto ciò che si muove, predilige logicamente degli artificiali che simulano i branchi di pesci che nuotano. Mi è stato proposto un accessorio di ultima generazione chiamato Umbrella Rig. Questo accessorio ha la possibilità di inserire come esche artificiali ben 5 esche. Può essere usato sia per la traina con la barca, sia con la canoa o addirittura da riva con la canna. Quindi può essere lanciato e trainare 5 artificiali. Le recensioni su Youtube sono abbastanza positive, ma logicamente bisogna tenere conto del fatto che molte di queste recensioni sono fatte dalle case costruttrici o da persone che lavorano per delle case costruttrici. Quindi i filmati che vedete spesso sono dei montaggi dopo svariate uscite di pesca, dopo tarature e test. Quindi è solo l'esito finale. In realtà non è così semplice, nel senso che l'azione di pesca, una volta inserite gli artificiali, non è così catturante. Questo per vari motivi che andremo a analizzare. Ciò per ridurre le probabilità di insuccessi. Di fatto dai test che vedrete noterete diversi artificiali, sia pesci in silicone, cucchiaini, rapala, affondanti, ondulanti, che se montati in maniera disorganizzata o comunque non equilibrata sull'umbrella rig, non effettuano l'azione di pesca voluta. Nel senso che saranno disordinati, piegheranno l'accessorio, non simuleranno l'andamento di navigabilità di un pescetto o del branco di pescetti. Quindi il suo potere attraente sarà sicuramente inferiore. Altro problema che andremo a verificare, lo vedrete anche questo dal filmato, che in particolar modo nei laghi, sia per la pesca del luccio o del black e bass, abbiamo fondali rocciosi oppure molte alghe. Pertanto l'umbrella rig con i cinque artificiali può assumere un assetto negativo, quindi se ci fermiamo con la barca o con la canoa o con il recupero della canna, questo tenderà ad andare sul fondo. Gli ancorotti artificiali inevitabilmente si aggrapperanno alle rocce e rischieremo di perdere il tutto. Se l'assetto è totalmente positivo, viaggerebbero troppo a galla e quindi in pratica l'azione di pesca, in particolar modo nei fondali profondi, sarà poco congrua. La soluzione, dopo vari test effettuati in una vasca artificiale, improvvisata, un fontanile, dimostrano proprio questo. Alla fine, con degli affondanti alternati a dei pescetti in silicone, si ha un accessorio trainante con assetto positivo nel momento in cui ci si ferma. Quindi, se ci si ferma con la barca o con la canoa o con il recupero della canna, il tutto verrà a galla. Nel momento in cui si inizia l'azione di recupero, il finale con i cinque artificiali tenderà ad andare sul fondo. Alternando la velocità, quindi con dell'esosteo e dei recuperi, avremo un andamento, diciamo, sinuoso, ondulante, dall'alto verso il basso e viceversa, in maniera tale da riprodurre più fedelmente l'andamento di un branco naturale. Anche il colore dei pesci va studiato in relazione allo sfondo, perché il predatore, trovandosi sul fondo, avrà come sfondo il cielo. Quindi, con cielo chiaro, è preferibile usare degli artificiali che hanno dei colori scuri, in maniera tale che risaltano. Al contrario, se si pesca sotto delle chiome degli alberi o con cielo nuvoloso, è preferibile usare artificiali chiari. Logicamente, ogni artificiale ha il suo movimento, ha la sua funzione, ha i suoi colori. La miglior cosa è quella di diversificare l'uso, in azione di pesca, dei vari artificiali per trovare quello che è più consono al predatore. È logico che, oltre a questo, bisogna principalmente, in via generale, evitare l'incagliamento, avere degli artificiali che hanno un andamento naturale, che costruiscono addirittura un branco della stessa specie, con forme uguali, ma di grandezza diversa, per simulare l'adulto, l'anziano e il piccolo. Questo montaggio va fatto in particolar modo per equilibrare l'umbrella rig, visto che è dotato di una parte iniziale con una testa di pesce con due occhi, in maniera tale che proprio questa sia allineata e non capovolta. Varie prove, quindi, sono necessarie su zona, diciamo, non pescosa, visibile, affinché sappiate cosa attaccare all'umbrella rig. Anche la velocità di traina è molto determinante, perché alcuni artificiali, se hanno bassa velocità, non funzionano come trovebbero, oppure, se la velocità è troppo alta, si muovono in maniera, diciamo, non naturale. Quindi il tutto prima va testato e poi si passa alla razione di pesca. Questo per non rischiare giornate e giornate di traina con rischio di perdita di attrezzatura e, logicamente, con probabilità di catture molto bassi. Una volta trovati gli artificiali e con un assetto propenso per la pesca, si può provare, in pratica, a pescare. Il filmato è molto loquente. Vedrete branchi di pesce, fondali erbosi, rocciosi e i vari artificiali trainati in varie circostanze, quindi con velocità bassa, velocità alta, movimento ondulatorio. Buona visione! Ecco la soluzione finale. Interponendo degli affondanti con assetto positivo, uno, due o tre, sistemati sull'umbrella ligue, in maniera tale che la testa dello stesso sia in assetto di navigazione, si ha un assetto positivo. Quindi, come ci fermiamo, va tutto a galla. Negli altri braccioli è conveniente mettere altri pesci, tipo pesci al silicone o altri artificiali. In questo modo eviteremo l'incagliamento, il fatto di prendere alghe sul fondo, e il movimento del branco è molto più naturale e quindi più pescoso. e quindi, come ci fermi, Eartha, E quindi, come? E' la cosa che ci fa, l'abbematιο, l'abbiamo, e ma standarde, e in maniera, e ma e in maniera, e ma perché ci fa, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.